Entrano in campo i giocatori delle due squadre con Capitano Calabria e Capitano Berezinski e dunque Sampdoria Milan Leao, Leao prova ad andare Rafa, Rafa ingaggia il duello, Rafa se ne va se ne è andato Raffaellino, punta Raffaellino, punta Raffaellino si muove Giroud, palla dentro, Giroud la rimette in mezzo Rafa, Rafa, Messias, tiro, gol! Ha segnato Junior Messias, ancora in questa porta come con Genoa Junior, Messias! Caputo, Caputo in area di rigore, la Dali, attenzione, la Sampdoria arriva, il tiro, la traversa, la traversa colpita da Giuricic Sandro Tonali è arrivato, chiede palla a Giroud, palla, Messias in mezzo deviazione, Rafa, area di rigore, Rafa, 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 Rafa il cross di Rafa, il colpo di testa, il gol di Charles il gol di Charles de Ketlare! Deve valutare se Giroud influisce sull'azione o meglio fuori gioco Simon Chier fa il tracciante, bello per Rafa, il colpo di testa, arriva sulla seconda palla Pobega che la schiaccia verso Teo, Teo la mette in mezzo, Giroud, la parata di Audero! Questa era la palla su cui fare il 2 a 0 ecco Leao, Leao ingaggia il duello, arriva in area, Leao, Leao la mette in mezzo, Giroud fuori! Due grandi occasioni Milan ecco Davide che fa un bel cross, Leao ha cercato la rovesciata, il tiro la palla di Pobega è finita in porta, gioco pericoloso di Leao rosso, spulso Leao pericolo, 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 Maugello gol pareggio della Sampdoria, una brutta serata questa Tonali in buca per Giroud che controlla palla servito Pobega, Teo Teo, la piazza, la deviazione di Audero in calcio d'angolo ecco il cross colpo di testa di Olivier eh sì, il braccio è verso la palla calcio di rigore per il Milan e ammonito Vigliar parte Oli gol, gol, gol grande Oli grande parata di Mignon grande parata di Mignon via la palla ragazzi vi prego sto tremando sto tremando l'anima sto tremando l'anima è finita siamo liberi siamo liberi abbiamo vinto come a Rio Ave grazie ragazzi grazie ragazzi grazie ragazzi grazie a tutti 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 Grazie a tutti.